Una fiaccolata per ricordare le vittime degli attentati di venerdì scorso a Parigi si è tenuta lungo le strade di Avezzano nella serata di martedì. Tra le centinaia di persone che hanno preso parte al corteo erano presenti i sindaci dei comuni della provincia dell'Aquila, alcuni consiglieri regionali, i rappresentanti della comunità cristiana, ortodossa ed islamica e moltissimi cittadini. Una manifestazione spontanea ha dichiarato nel corso del suo intervento il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio contro tutti i fatti accaduti da 15 anni a questa parte che mira a combattere il terrorismo con la pace e con il silenzio. L'imam della comunità islamica, Hamid, ha dichiarato «Il nostro credo non ci permette nemmeno di uccidere una formica, siamo rimasti molto male per quello che è accaduto a Parigi, ma ciò che è accaduto è solo politica, non è islam». Alla manifestazione ha preso parte anche il vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, il quale ha affermato «Sono qui per unirmi ai rappresentanti delle altre religioni, ai rappresentanti istituzionali e a tutti i cittadini, stiamo vivendo un momento tragico e senza giudicare la mia fede e quella degli altri, credo solo che non si possa uccidere in nome di Dio».